Il nostro non è un lavoro comune, è un'arte, perché è l'arte di far star bene le persone. I nostri cari e noi stessi, un dolce mondo dove tutto parte da un chicco e poi si trasforma. Questo mondo per noi è la pasticceria. Da nord a sud tu hai molte cose da dire, da fare, vedere. Non importa il colore se sei una lei oppure un lui, perché tu non sei banale. Tu sai quel che fai, puoi fare quello che vuoi, perché con te c'è lei, solo lei, solo lei. Un solo gruppo noi, siamo noi, siamo noi. Credo in quel che fai, credo in quel che sei, quello che vorrai, puoi averlo, puoi averlo. Credo in quel che vuoi, rinunciare mai, ti ritroverai ad amarlo. Credo in quel che fai, credo in quel che sei, quello che vorrai, puoi averlo, puoi averlo. Credi in quel che vuoi rinunciare ma ti ritroverai ad amarlo Grazie per la visione